Berca a vela con 700 kg di cocaina provenienti dalle Sud America, quattro gli arresti, operazioni nell'Oceano Atlantico, nella rete della DIA e della Guardia Civile Spagnola, sono finiti due italiani, un croato e un serbo. Montemaggiore Belsito, due arresti per la rapina ad un'anziana, presa anche una donna per ricettazione. Oltre due milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni per il duro sfogo della docente palermitana Giovanna Corrao, che in una diretta Facebook ha commentato la tremenda vicenda della violenza di gruppo. Presentata al meeting di Rimini, la figura delle Beato Pino Puglisi, la storia del martire è stata tracciata dall'Arcivescovo di Palermo, Don Corrado Lorefice, e dal procuratore generale in Cassazione, Antonio Balsamo. Calcio Serie B, nuovo colpo di mercato per il Palermo, che ufficializza l'arrivo di Lund, giovane promessa danese. Benvenuti alla seconda edizione del TG Media News di martedì 22 agosto. Apriamo con la cronaca, a barca a vela con 700 kg di droga. Il sequestro avvenuto nell'oceano Atlantico si è concretizzato in seguito ad indagini congiunte dalla Direzione Investigativa Antimafia in collaborazione con la Guardia Civile Spagnola. Quattro arresti, tra quali due italiani. Ascoltiamo i dettagli nel servizio. Un carico di 700 kg di cocaina proveniente dal Sud America è stato rinvenuto e sequestrato a bordo di un'imbarcazione oggetto di convergenti indagini da parte della DIA e della Guardia Civil Spagnola. Nell'operazione sono strati tratti in arresto due cittadini italiani, un cittadino croato e un serbo. Sud italiani e sul croato, in particolare da tempo, si erano concentrate le attenzioni della Direzione Investigativa Antimafia nell'ambito di attività di indagine condotta sotto la Direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Direzione distrettuale antimafia che già nel novembre 2022 aveva portato alla localizzazione e cattura in Turchia di un latitante ricercato dal 2018 in quanto colpito dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabrio nell'abito dell'operazione Pollino. European Drangheta Connection è condannato in primo grado alla pena di 22 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno consentito l'individuazione dell'imbarcazione a vela Rossio, battente bandiera polacca di proprietà di uno dei cittadini italiani arrestati, quale possibile vettore di ingenti quantitativi stupefacente sulla rotta atlantica in convergenza con le contestuali indagini condotte dall'UCO, della Guardia Civile Spagnola, della Polizia Croata e da quella serba. E ancora cronaca, tre arresti a Montemaggiore Belsito, provincia di Palermo, per una rapina dello scorso luglio e danni di un'anziana. Si tratta di due uomini e una donna, quest'ultima accusata di ricettazione. Il punto nel servizio. Due uomini in manette a Montemaggiore Belsito, in provincia di Palermo, sarebbero i responsabili di una rapina commessa lo scorso 18 luglio in danno di una donna di 80 anni, aggredita e rapinata degli orecchini d'oro che indossava mentre camminava a piedi in via Stesicoro. I presunti autori della rapina, un ventenne e un trentottenne, dovranno rispondere del reato di rapina aggravata in concorso. L'indagine, condotta dai carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Termini Merese e della stazione di Montemaggiore Belsito, ha riguardato anche una donna di 34 anni che, secondo l'accusa, si sarebbe occupata della ricettazione della refurtiva. Per quest'ultima, il Tribunale dei Termini Merese ha disposto gli arresti domiciliari. Per i due uomini, invece, disposta la custodia cautelare in carcere. E ancora incidenti mortali in Sicilia. Scontro mortale lungo la strada statale 626 Gela-Caltanissetta, nei pressi del Bibio di Butera. A perdere la vita un uomo che viaggiava in direzione del capoluogo Nisseno ed era alla guida dell'automobile. Ascoltiamo. Ancora una tragedia sulle strade siciliane. Uno scontro è avvenuto ieri sera lungo la statale 626 Gela-Caltanissetta, nei pressi del Bibio di Butera. A perdere la vita un uomo che viaggiava su una minicuper in direzione del capoluogo Nisseno. Si tratta di Salvatore Gambino, 59enne di Caltanissetta. L'uomo, prima di andare a sbattere violentemente contro un crossover Hyundai, ha ortato un Alfa Romeo 156. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul luogo l'incidente sono giunte immediatamente diverse ambulanze. La vettura del 59enne è rimasta incastrata sotto un altro mezzo e il suo corpo era dentro l'auto, ridotto a un groviglio di lamiere. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le altre 8 persone coinvolte nell'incidente, compreso una giovane coppia di Gela, sono state trasportate in diversi nosocomi. 4 al Vittorio Emanuele di Gela, 2 al Sant'Elia di Caltanissetta, 1 al Suor Cecilia Basarocco di Niscemi e 1 al Santo Stefano di Mazzarino. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Sul posto giunti i vigili del fuoco e il distaccamento di Gela, i carabinieri e gli agenti della stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente. Oltre 2.000 visualizzazioni in pochissimi giorni per il duro sfogo della docente palermitana Giovanna Corrau, che in una diretta Facebook ha commentato la tremenda vicenda della violenza di gruppo, affrontando anche con l'occasione il ben più grande tema del difficile ruolo del genitore e della vera e propria emergenza sociale che stiamo vivendo. A voi l'intervista. La situazione purtroppo è sfuggita di mano in maniera estremamente crudele, perché di crudeltà si parla, di malvagità si parla. Il mio sfogo riguarda una problematica estesa. Io non parlo nello specifico contro una persona in particolare, contro una famiglia, ma contro una ormai schiera sociale, una comunità educante che di fatto è inesistente, perché ognuno si gira dall'altra parte e poi alla fine ognuno si guarda l'orto di casa propria. Non è così, non è così perché le famiglie che sono investite da una povertà educativa sono tantissime. Io non mi riferisco soltanto a quelle famiglie che hanno la sfortuna di avere dei problemi di natura socio-economica che vivono in dei quartieri deprivati. Non è così perché adesso la povertà educativa riguarda tutti gli adulti di tutti i ceti sociali. Io comprendo che i genitori sono stanchi, sono avviliti perché sono, come dire, fagocitati dalle responsabilità, dalle scadenze, dagli obblighi e sono chiamati a dare, 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 dare sempre di più ai figli senza neanche avere poi più tempo per se stessi. Quindi quando io tra l'altro nel mio video ho detto, tra virgolette, in siciliano ci si dia, che da noi significa appunto sono stanchi e quindi preferiscono mollare la presa, è anche normale che ci si dia perché sono avviliti, sono stanchi e non hanno più neanche genitori tempo per se stessi. Quindi io vi dico, se dovete fare un figlio per perfezionare la vostra figura sociale, non lo fate, non lo fate, perché non si diventa genitori nel momento in cui si partorisce, si diventa genitori strada facendo. È cambiato il modo di essere figli ed è cambiato anche il modo di essere genitori, è stato attuale, cos'è andato Stor? Allora, sicuramente siamo in una società liquida, come dice Bauman, dove c'è molta confusione. Nel termine confusione è racchiuso il significato pregnante, confusione, c'è la mescolanza di tante cose, troppe cose. In mezzo a tutta questa confusione le persone che non sono strutturate, forti, culturalmente forti, non sanno più discernere tra cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è utile e cosa non lo è. Se lei avesse modo, ovviamente non è possibile, di dire qualcosa ai genitori di questi ragazzi autori di questo tremendo crimine, cosa direbbe loro, da mamma, da insegnante? Dovete avere tanta forza e dovete farvi forza all'interno della vostra struttura familiare e dovete fidarvi gli uni degli altri, perché quando succede un dramma, quando succede una disgrazia, bisogna che in quel momento la vita è distrutta. Allora, siccome l'essere umano è fatto per migliorare, è fatto per guarire, il corpo umano è fatto per guarire, la disgrazia può succedere, la malattia può succedere, però occorre che la vita torni a farsi spazio nella non vita dopo un dolore. Quindi fatevi forza, unitevi e soprattutto cercate di capire in che cosa non è andato il vostro progetto genitoriale. Chiedete aiuto, non vi vergognate, perché la vita è fatta anche di queste disgrazie. Presentata alle meeting di Rimini, la figura del Beato Pino Puglisi, la storia del martire, è stata tracciata dall'arcivescovo di Palermo, Don Corrado Lorefice, e anche dal procuratore generale in Cassazione, Antonio Balsamo. Ascoltiamo. Anche l'annuale meeting di Comunione e Liberazione, che si sta svolgendo in questi giorni a Rimini, ha voluto rendere omaggio al Beato Pino Puglisi a 30 anni dalla morte, avvenuta per mano mafiosa il 15 settembre del 1993. Oltre 3.000 le persone presenti e moltissime altre collegate in streaming hanno ascoltato il racconto appassionato, tracciato dall'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, dal sostituto procuratore generale della Cassazione, Antonio Balsamo, e da Vincenzo Morgante, direttore di TV 2000. A introdurre i lavori il palermitano Salvatore Taormina, membro della redazione culturale del meeting, che ha ringraziato Tele One per aver messo a disposizione l'intervista al fratello del Beato, Franco Puglisi, trasmessa all'inizio dell'incontro e seguita da un lungo applauso. Iniziamo vedendo un breve video realizzato dalla giornalista palermitana Gabriella Ricotta, per la emittente Tele One, che ringrazio per aver concesso i diritti di questo breve video, ed è un breve video dove vengono rivolte alcune domande al fratello vivente di Don Puglisi. Lui è l'emblema dell'amicizia umana, la maggior parte del suo ministero lo ha effuso con i giovani, credendo molto a contesti umani, culturali, che potessero introdurre i giovani a un senso più profondo della vita. Ma per lui che era in tutto e per tutto un vero autentico sacerdote, alla fine il senso ultimo della vita lo acquisiva dal Vangelo. La figura di Gesù, l'uomo per eccellenza, perché è colui che di tutta la sua vita fa un dono. Credo che questo sia anche il presupposto per cui ci possa essere un'amicizia sociale nelle nostre relazioni a tutti i livelli, ma direi quasi con la prospettiva di Papa Francesco un'amicizia mondiale. La più bella definizione della giustizia che ho mai sentito, io l'ho trovata nelle parole di Padre Pino Puglisi. Giustizia significa mettere al centro l'uomo, è quello che lui ha cercato di fare nella sua attività a brancaccio, con la capacità di farsi carico dei bisogni dei più poveri. C'è una sua espressione bellissima, il diritto dei più poveri. Ecco, Padre Pino Puglisi è una persona che si è fatta portatrice delle esigenze della Palermo più bisognosa, di quella Palermo che aveva bisogno di riscrivere il proprio destino. Il suo impegno è una fonte di ispirazione per tutti noi oggi. Testimoni di esperanza, testimoni di vita, in un quartiere difficile di Palermo, tristemente famoso, brancaccio, ebbe il coraggio di sfidare i signorotti del quartiere, i famosi fratelli Graviano, ma una sfida con le modalità e i contenuti proprio di un sacerdote, che non era un sacerdote antimafia, era un sacerdote provita, prosperanza appunto, e decise soprattutto di investire il suo impegno presbiterale a favore dei più piccoli, a favore dei giovani, sollecitando loro stessi e le loro famiglie a ribellarsi ad un andazzo che diceva che la loro vita era inevitabilmente destinata ad intrecciarsi con quella della malavita, con quella della mafia e dell'illegalità. E ora torniamo a parlare dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi a Caltagirone, dove un'auto ha trovolto i clienti in un bar all'aperto, dimessi dall'ospedale 4 dei 6 feriti. L'auspicio del vice sindaco Crispino, speriamo che anche gli altri due possano al più presto tornare a casa. Intanto il conducente della macchina chiede scusa. Ascoltiamo. Sono stati dimessi dall'ospedale 4 dei 6 clienti del bar all'aperto nel centro storico di Caltagirone, travolti venerdì scorso da una mini cooper mentre consumavano le proprie ordinazioni seduti ai tavoli. Restano ricoverati all'ospedale Grevina di Caltagirone soltanto due di loro, che hanno riportato ferite e traumi più gravi e comunque tali da non destare particolari preoccupazioni per le loro condizioni. Intanto l'uomo che era alla guida dell'auto, un 76enne originario di Caltagirone, ma da tempo residente a Milano, denunciato all'autorità giudiziaria dagli agenti della Polizia Municipale per lesioni colpose dopo aver percorso la via San Buonaventura potrebbe essere stato ingannato dalla scarsa dimessichezza col cambio automatico dell'auto premendo l'acceleratore invece del freno e facendo così inavvertitamente finire la macchina sugli avventori del bar. L'uomo ha scritto al sindaco una lettera indirizzata alla città con cui manifesta il proprio forte rammarico per l'accaduto Non avendo modo per il momento di rivolgermi direttamente a quanti sono stati coinvolti negli accadimenti, la prego di esprimere il mio disagio e senso di colpa nei loro confronti, con la speranza che si riprendano il prima possibile. Nonostante non sia stata assolutamente mia volontà a recare un danno simile, chiedo scusa a tutti e spero di poterlo fare di persona molto presto. In pochi secondi so di aver cambiato la vita di alcune persone, ma anche la mia non sarà più la stessa. Un grazie va alle forze dell'ordine e ai sanitari per il loro celere ed efficace intervento. Nel prendere atto dei contenuti della lettera dell'uomo, il vice sindaco di Caltagirone, Paolo Crispino, a nome dell'amministrazione comunale, si dice felice per le dimissioni dall'ospedale di quattro dei feriti e ribadisce l'auspicio che anche gli altri due nostri concittadini, ancora ricoverati, possano nel più breve tempo possibile tornare a casa, lasciandosi così alle spalle la spiacevole esperienza vissuta. E ancora altre notizie, ci spostiamo a Santa Venerina, a Borgo Cosentini nel Catanese, conferenza sui rischi geologici e pregi ambientali della regione etnea. Vediamo il servizio. L'Etna, il più alto vulcano attivo d'Europa, collocato sul versante orientale della Sicilia, domina con i suoi 3.357 metri di altezza la provincia di Catania. Il vulcano e la sua lunga storia raccontano le relazioni tra l'impatto delle eruzioni, il processo di civilizzazione e lo sviluppo urbanistico. La sua maestosa figura si può ammirare anche da Cosentini, frazione di Santa Venerina. Domani, mercoledì 23 agosto alle ore 20, in piazza Cosentini, si terrà un'interessante conferenza per una maggiore conoscenza dell'Etna su rischi geologici e pregi ambientali della regione etnea, organizzato dalla comunità parocchiale Maria Santissima de Rosario di Cosentini con il patrocinio del comune di Santa Venerina. Il piccolo borgo, legato indissolubilmente all'Etna, quindi è il risultato di una lunga e complessa storia di eruzioni, caduta di lapiglie, sabbia nera e terremoti. Non ultimo, il sisma del 26 dicembre del 2018, che ha portato le abitazioni, le imprese e la chiesa con annessi locali ad essere dichiarati inagibili a causa di inguenti danni. Oggi il paese sta rinascendo grazie all'aiuto degli stessi abitanti e delle somme stanziate per la ricostruzione. Don Andrea Sciacca, parroco della comunità di Cosentini, così asserisce, apprendere la storia e le dinamiche del vulcano è importante. Siamo in una terra viva e ricca di bellezza, nonostante disagi che a volte porta la nostra amata Etna con i suoi fenomeni in molti paesi pedemontani. Noi spesso percepiamo solo i fastidi del vulcano, piuttosto che a ricavarne benefici. Dovremmo imparare a capire e ad amare sempre più il nostro vulcano. E ora passiamo allo spettacolo, musica, cultura e tradizioni, ultimi appuntamenti in programma all'interno delle Castellammare Estate 2023 che si concluderà a settembre. Entrano nel vivo anche i festeggiamenti della patrona della città. Ascoltiamo il servizio. Musica, cultura e tradizioni all'interno delle Castellammare Estate 2023, il cartellone delle manifestazioni estive previste fino a settembre dall'amministrazione comunale. Oggi è in programma il concerto ad ingresso libero del cantante Giuseppe Adrannia che si esibirà live con la sua orchestra. Il 24 agosto il musical Mamma Mia Batribute a cura dell'associazione culturale Dream Life. Il borgo di Scopello ospiterà l'1, il 2 e il 3 settembre anche l'arab Fenice Jets. Il 2 e 3 settembre in Piazza Petrolo si svolgerà il Sicilian Summer Village con la Sagra dell'Abusiata. Dal 22 al 24 settembre nella zona pedonale di Corso Garibaldi il Castellammare Culture Festival a cura dell'associazione Trinarte. Dal 25 al 27 agosto i festeggiamenti in onore della Sacra Famiglia si svolgeranno nella frazione di Balata di Baida e dal 4 all'8 settembre ci saranno quelli in onore della Madonna di Custonaci a Porta Fraginesi. Inoltre sono entrati nel vivo i festeggiamenti in onore della patrona della città Maria Santissima del Soccorso. Infatti dal 12 al 16 settembre sono previste più attività per i festeggiamenti in occasione del suo 225esimo anniversario dell'incoronazione. Il sindaco Giuseppe Fausto è convinto che la promozione del territorio passi anche da offerte culturali e attività che possano essere di impulso per il turismo e l'economia in collaborazione con le associazioni che si rispondono già con impegno ed entusiasmo. Insomma l'estate a Castellammare del Golfo continua. A Erice è la 55esima sessione dei seminari internazionali sulle emergenze planetarie organizzata dalla Fondazione Centro di Cultura Scientifico Ettore Maiorana. Ascoltiamo. Sono stata molto onorata quest'oggi nel porgio dei saluti da parte della comunità di Cita questa comunità di esperti e scienziati provenienti da tutto il mondo che si è riunita appunto per scambiare idee in questo scambio internazionale tra scienziati per affrontare delle emergenze planetarie quindi dall'acqua, dall'energia sostenibile alla pandemia ad un futuro diciamo globale più sicuro quindi temi importanti che ci stanno a cuore che sicuramente vanno affrontate offrendo anche delle soluzioni scientifiche per offrire un futuro migliore ai nostri figli e ai nostri nipoti e chiaramente dobbiamo ricordare che questo luogo rappresenta un paro luminoso per la comunità scientifica e non solo lo è stato negli anni ricordiamo ad esempio quando il professore Zighichi quando si temeva che potesse scoppiare una terza guerra mondiale in particolare atomica riunì gli scienziati di tutto il mondo in particolare russi e americani e affrontarono con i rispettivi responsabili dei programmi nucleari affrontarono questa tematica per rivedere quello che erano i protocolli e in quell'occasione Paul Dirac a cui è dedicata l'aula appunto dove si svolge il seminario redasse un documento firmato da 90.000 scienziati e quindi da qui il luogo di pace è sicuramente edice in generale il luogo di pace e di cultura scientifica perché è punto di riferimento per la comunità scientifica e questo è un riconoscimento sicuramente unanime e convinto e quindi siamo stati davvero profondamente orgogliosi di poter salutare questi illustri ospiti tra l'altro ricordiamo che quest'anno ci sarà festeggerà la fondazione 60 anni di attività e appunto queste attività che negli anni hanno svolto questo ruolo diciamo assolutamente importante che ha proiettato edice a farlo conoscere in tutto il mondo nasce dalla sinergia che in questi anni abbiamo cercato di mettere assieme tutta la serie di attori e poi una serie di casi fortuiti che non sto qui a raccontare mi ha permesso di incontrare gli organizzatori di questa manifestazione gli ho proposto che la Sicilia poteva essere una location importante per loro visto che erano solamente rivolti a Nord Italia e infatti li ho fatti incontrare anche con il sindaco di Gibellina e anche con Segesta e la prima edizione ha riguardato questi tre siti questa seconda edizione riguarda ovviamente sempre erice ma anche Gibellina e anche quest'anno se l'inonte ma abbiamo già programmato anche per il prossimo anno loro cercano posti di bellezza e erice è pieno di posti di bellezza quindi già per l'anno prossimo ma anche per il 2025 abbiamo già delle idee delle location per quello che vogliamo far diventare una cosa stabile su erice Dal primo settembre riparte ai Giardini Naxos la lunga maratona di Naxos Legge tredicesima edizione del Festival e delle narrazioni della lettura e del libro diretto da Fulvio Toscano ascoltiamo Naxos Legge giunto alla sua tredicesima edizione ha scelto quest'anno come tema poi è in fare inteso come l'arte del fare l'azione il pensiero che diventa azione e quindi il Festival sarà declinato in tutta una serie di sezioni che avranno sempre la parola fare fare storia fare poesia fare ad arte fare memoria fare scena fare notizia eccetera quindi il fare inteso come partecipazione come possibilità del singolo che si assume una responsabilità rispetto alla propria storia ma anche alla grande storia andando un po' più nel programma nel palinzesto del Festival possiamo citare una serie di giornalisti importanti come Alessandro Gnocchi che verrà a raccontare il suo nuovo libro dedicato a Testori di cui quest'anno ricorre un importante anniversario avremo due importantissimi reporter di guerra Fausto Biloslave e Gianmichael Essin che racconteranno al medico Grills a Catania ma anche incontreranno i giovani per raccontare l'esperienza del fronte della prima linea avremo poi un momento importante dedicato a Tolkien in collaborazione con il CEPEL il centro per il libro e la lettura del ministero e quindi avremo la presenza di Angelo Cappello di Luciano Lanna e di Oronzo Cilli uno dei massimi studiosi di Tolkien di cui quest'anno appunto ricorre anche un importantissimo anniversario avremo Marina Terragni una giornalista importante con cui affronteremo un tema molto delicato che è quello dell'utero in affitto e del problema del corpo delle donne e ancora spettacolo al centro della programmazione di domani e dopodomani del Segesta Teatro Festival sono la danza contemporanea e le note ricercate al tempo stesso popolari che sfidano i confini del tempo giunti all'ultima settimana di programmazione ascoltiamo dalla Grecia Antica all'est Europa due concerti imperdibili al Tempio di Segesta domani alle ore 21 appuntamento al Tempio con il concerto in viaggio dall'Europa ai Balcani di Nubras e Sambl formazione internazionale votata alla costruzione di un ponte tra musica colta occidentale e le tradizioni sonore di Balcani e Medio Oriente unendo musicisti under 35 provenienti dal mondo della classica del jazz e della musica popolare Nubras in arabo è la lanterna di chi apre nuove strade e molteplici sono le strade percorse dai componenti di un ensemble che riunisce un trio d'archi tutto al femminile una violonista veneziana una spagnola una violoncellista polacca un sassofonista trentino un percussionista e un fisarmonicista napoletani sono strade dove lasciarsi andare a danze bulgare e ad ascoltare suite rumene e brani di tradizione serba e macedone giovedì il 24 agosto doppio appuntamento alle 19.30 al Teatro Antico arriva la danza contemporanea di Sofia Nappi coreografa indipendente per importanti compagnie internazionali presentando al Segesta Teatro Festival le due coreografie in successione Dodi e Ima il primo un duetto che trae il titolo dall'ebraico Dono mio amato e ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali parte dall'esplorazione dello stato di tormento e insoddisfazione che maggiormente plasma l'esistenza umana il desiderio costante di quel qualcosa in più nelle nostre vite può spesso produrre un senso di solitudine e quindi paura è un titolo che rimanda ad altre lingue anche quello della performance Ima termine giapponese che indica il momento presente mentre in aramaico ed ebraico anche il significato di madre nella sua eccezione di rinascita e rinnovamento il quintetto afferma la coreografa Nappi è stato immaginato durante il periodo di distanziamento sociale a seguire alle ore 21 al Tempio si presenta in prima nazionale il concerto Teleion del duo Lopez Arevalos un viaggio indietro nel tempo nei territori della musica greca antica reinterpretata con sensibilità contemporanea e strumenti ricercati la formazione composta dalla cantante e attrice Camilla Lopez e il pianista compositore Matteo Ramon Arevalos in questa occasione si focalizza su 12 opere di musica greca antica liberamente trascritte il Segesta Festival è sostenuto dalle MIC Ministero della Cultura e promosso dal Parco archeologico di Segesta che comprende i siti di Custonaci Contessa in Tellina Poggio Reale e Salemi i biglietti sono disponibili online sul sito del Segesta Teatro Festival o al link www.vivaticket.com su coopculture.it o acquistabili al botteghino del Parco e ora veniamo al calcio serie B nuovo colpo di mercato per il Palermo che ufficializza l'arrivo di Lund giovane promessa danese rinaudo al lavoro per altri obiettivi di mercato ascoltiamo il servizio ed anche l'esterno sinistro è arrivato il Palermo prosegue con i movimenti di mercato accogliendo in organico Christopher Lund il difensore danese classe 2002 giunge in Sicilia dall'Aken dove già quest'anno dopo la vittoria del campionato in Svezia ha disputato le prime partite di qualificazione alla Champions League e all'Europa League sul curriculum della giovane promessa anche alcune presenze con la nazionale under 21 della Danimarca nella prima giornata a Palermo per Lund la visita al Renzo Barbera ed al Museo Rosanero da dove il difensore ha condiviso le prime immagini sui social la dirigenza continua intanto a lavorare per altri obiettivi fra i più importanti rimane sicuramente quello di un centrocampista con doti offensive il sogno era quello di Prati che ha però sposato la causa del Cagliari e sul taccuino era rimasto anche il nome di Verre che la società ha però deciso all'inizio del mercato di non riscattare in attesa della prossima sfida di campionato intanto i Rosa possono tornare a riabbracciare i propri tifosi con la sfida amichevole contro il Melita formazione della Serie B maltese che il Palermo sfiderà in amichevole giovedì sera al Renzo Barbera e intanto la Lega Serie B ha reso noti orari e date della quarta giornata quella in cui la squadra di Corini che salterà la seconda farà il proprio esordio al Renzo Barbera la prima in casa nel nuovo campionato contro la Feralpi Salò si giocherà sabato 2 settembre con fischio d'inizio alle 18.30 bene il Tg Media News termina qui con quest'ultima notizia vi ringrazio per essere stati con noi vi do appuntamento a domani non mancate a domani a domani a domani a domani a domani